Viva San De Miro! Viva San De Miro! Viva San De Miro! Viva San De Miro! Partonoenze di Pettegrino! Appunto nell'ipotesi di De Miro sarebbero proprio le tombe dei due protagonisti, Dipegrino e pronelli delle나 fattiche. Il signore ti ha chiamato nella Sicilia Lui ci ha dato il bastone e ammazzato Ora io so di una storiella molto interessante Non è che si dice alle 101 pallone Ah sì sì, ha lo vinto il bastone A 25 pallone e per farlo con tutti gli uomini lo tende a prendere A 25 pallone e per farlo con tutti gli uomini lo tendono Grazie Grazie